Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nel corso di questo venerdì avremo tempo stabile e tardo, primaverile su tutta Italia, un po' di pulviscolo sariano al sud sul medio basso Tirreno, anche in Sardegna, però ovviamente non ci saranno fenomeni annessi. Le temperature tenderanno a salire ulteriormente al nord sulle regioni tirreniche con picchi locali di 26 o addirittura 27 gradi, parliamo di temperature tipiche dell'inizio dell'estate. In Abruzzo sarà una giornata ancora molto stabile e primaverile, massime che sfioreranno i 19-20 gradi tra Pescara e Chieti, clima molto gradevole anche in montagna, sino alle alte quote, ci saranno sereni praticamente. Ovunque un po' di pulviscolo desertico in sospensione alle alte quote, ma ovviamente senza particolari conseguenze. Temperature in aumento anche nei valori minimi, ci aspettiamo minime tra i 5-10 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento.